Buondi ragazzi, come state? Buon mercoledì a tutti quanti voi. Mercoledì molto importante per quanto riguarda il mercato. Si stanno sviluppando tantissimi aspetti di mercato che dobbiamo osservare, controllare e commentare insieme. Molto molto semplicemente. Intanto, fra pochino arriva Pier Calullo al G Medical, quindi sosterrà le visite mediche, insomma la maratona delle visite mediche, non visite mediche normali, parliamo di Nicolo Gonzales, prove di chiusura nella giornata di oggi, affondi finali, quindi mi raccomando alcune curiosità sui social, su Jalù e Pogba, e infine chiudiamo su chiesa. Quindi un bel po' di carne al fuoco, le commentiamo insieme tutte queste cose. Prima di iniziare vi ricordo che oggi su Instagram parte quel famoso contest. Avete tempo fino a domenica, quando uscirà il video, verticale, voi dovete essere pronti lì a fare tutto quello che vi chiedo di fare. Mi raccomando, intanto però, mettete il like al video, questo qua, spingetelo su questa piattaforma che è YouTube, vi invito a iscrivervi se non vi siete ancora iscritti e a commentare a fine video, a dirmi le vostre opinioni. Allora, partiamo subito da Pier Canullo, che arriverà a breve, visite mediche di rito, giornatona lunga, arriverà direttamente da Milano, poi una volta sostenute le visite mediche, credo che usciranno il primo pomeriggio, si sposterà direttamente alla continassa, alla sede centrale, firmerà il contratto, una volta firmato il contratto, si unirà al Creator Lab, ai ragazzi del Creator Lab, per creare, insomma, soliti contenuti social, farà il classico shooting per la Juventus, con le varie maglie della Juve, e poi ragazzi, il tutto verrà documentato dal bellissimo video dietro le quinte del Creator Lab, quindi sarà molto interessante da seguire anche questa giornata. Pier Canullo, che arriva con tanta diffidenza, e io mi auguro che ci faccia effettivamente ricredere su tante perplessità che abbiamo. Io, personalmente, solamente di natura fisica, non metto in dubbio il suo valore da calciatore, tanti anche il suo valore da calciatore, per cui tocca a lui mettersi in gioco e dimostrare che è da Juventus. Però ragazzi, questo significa anche che nelle gerarchie della Juventus, un giocatore simile, va un po' a nuocere alle posizioni di vari Gatti, di vari Danilo, eccetera. Perché, a mio parere, Bremer e Calullo saranno i giocatori titolari. Però sappiamo anche che Chiesa, scusate Chiesa, Chiesa ne parliamo dopo, che Tiago Motta non è uno che si cristallizza più di tanto con le posizioni, è uno che tende a far giocare chi merita in partita, ha il coraggio di fare anche certe scelte forti, l'ho fatto con Bangoulat alla prima di campionato ed è stato premiato questo coraggio, questa scelta. Perché Bangoulat entra all'esordio, segna anche un gol importante che stappa la partita e per cui io apprezzo molto questo modus operandi di Tiago Motta perché non ha sovrastrutture legate a ingaggi, non ha altre cose. È uno molto libero di scegliere in base a quello che è l'andamento dell'allenamento, che è importante. E tutto quel lavoro che viene fatto, distante da noi, che noi non vediamo. Ora, tanti iniziano già a polemizzare, visto già i primi, non so come chiamano, nostalgici, che hanno subito puntato il dito contro questo infortunio muscolare di UEA e di Kefren Turam, che è una tegola che non ci voleva perché sicuramente salteranno Juve Roma, che è una partita importante. Però vi dico anche che qua questi giocatori sono stati caricati di lavoro ed è normale che magari qualche problemino salta fuori. L'importante è non andare tanto oltre durante la stagione, quando iniziano ad esserci impegni importanti, quelli che possono decidere l'andamento della stagione stessa. Per cui, a inizio campionato, qualche acciacco ci può stare. Oltretutto abbiamo avuto sempre una rosa molto risiccata e avere una rosa così ristretta ha sicuramente portato Motta a caricare sempre sui stessi giocatori un po' di più. Per cui, aspettiamo anche che si completi la rosa e questo deve essere anche una sorta di incentivo alla dirigenza affinché si vada a chiudere su quei giocatori importanti che vanno a completare la rosa, che danno respiro anche a chi in questo momento ha tirato molto di più la carriola. E quindi, tutto ha senso dal momento in cui viene completata la rosa. Ad oggi è inutile sparare sentenze sull'andamento degli infortuni, eccetera, aspettiamo. Il campionato è lungo e come Chiesa, scusate, io ce l'ho ancora con Chiesa, è un chiodo fisso di questo video. E come Tiago Motta non dovrà essere valutato esageratamente per questa partita col Como, ma servirà un filato di 10-15 partite, almeno per farci un'idea chiara dell'andamento della Juventus e di cosa può fare, di cosa non può fare, ecco, io vi dico attenzione anche a puntare già il dito contro i preparatori, eccetera, aspettiamo. Possono essere incidenti iniziali di percorso e poi tutto magari andrà per il meglio. Tornando invece alla questione di Nico Gonzales, la Juventus ci vuole provare a chiedere subito questo colpo. Ho tantissima curiosità sulle modalità con le quali arriverà questo giocatore. Credo che si possa arrivare a un prestito con obbligo di riscatto, facilmente raggiungibile, insomma, da capire tutte le modalità per arrivare a Nico, ma Nico vuole la Juve, ha dato priorità, finora la Juventus, poi non disdegna anche altrimenti, cioè non è come Coop che dice no, 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 voglio solo la Juve, è un po' più come Calafiori, ecco, però dà sicuramente priorità alla Juve per la vetrina che gli offre, per i palcoscenici che la stessa Juventus offre a lui, offre un ruolo intanto importante da titolare, e quindi bisogna sicuramente accelerare dal momento in cui UEA è out e non abbiamo nessun'altra alternativa lì e vediamo, insomma, se la Juventus riuscirà a portarla a casa prima di Verona-Juve, partita delicata, partita importante. E anche la modalità mi incuriosisce tanto perché sicuramente questa andrà a modificare quelle che sono le strategie future, salvo ovviamente qualcosa non cambi sul discorso Chiesa perché ci sono stati i primi contatti tra la Juve e il Barcellona e quindi Chiesa potrebbe andare effettivamente al Barcellona. Vediamo anche qua come si sviluppa quell'asse là, spagnola e italiana, un'asse che potrebbe portare la Juventus a risparmio importante e non mi stupirebbe eventualmente un Nico Gonzalez già preso subito senza questa formula del prestito temporaneo con l'obbligo di riscatto o col diritto di riscatto. Vediamo, perché secondo me Chiesa libera tanto spazio e consente alla Juventus di poter prendere un giocatore come Nico di botta così, subito alla prima. Vediamo un po' quindi l'evolversi della situazione. La curiosità invece su Pogba hanno smesso, lui, ha smesso di seguire la Juve sui social, tanti si sono scandalizzati, a me viene da dire solamente una cosa, e sti cazzi? Perché ragazzi, io vedo tanti che usano sti cazzi al muzzo, sti cazzi come sorpresa, wow, no, quello è me coglioni. Sti cazzi significa me ne fotte, zero, me ne frego, cioè questo significa, ok, semplicemente. Jalot ha smesso di seguire la Juve sui social, sti cazzi? La Juve vuol prendere Nico González, me coglioni, non sti cazzi. Ecco, era l'esempio, un po' preso da Marco Giallini, dalla sua spiegazione sulla serie di tipo Rocco Schiavone. E a parte questa situazione qua, vi dico, sti cazzi, l'ho messo fuori dal progetto, cioè Jalot completamente bocciato, io lo vi stanno in Berga in grandissima difficoltà, io ve lo vuol cedere alla Roma con una formula di prestito con un diritto di riscatto, 2, 5 di riscatto, 7 milioni totali alla fine della quota che noi abbiamo pagato, ci siamo perdati anche l'ammortamento un anno, facciamo un minimo di plus valenza, ma veramente un minimo, 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 quindi capirai. Poi, ragazzi, non ci resta che aspettare il fronte Copp, non so che altro dirvi, però di imminente mi pare che ci sia Pier Caluru che arriva alla Juve, un affondo per Nico Gonzalez e adesso non ci resta che aspettare poi l'ultimo affondo per Tum Copmainers. Io, ragazzi, vi mando un forte abbraccio e vi auguro una buona giornata, fatemi sapere le vostre opinioni sotto nei commenti, seguitemi su X e su Instagram, avete la doppia possibilità se mi seguite se entrambi per giocare di una chance su X e una chance su Instagram, quindi molto semplice. E niente, che dura sta vita da Juventino con il mercato ancora non chiuso, con gli infortuni, dopo una bella partita. Stava andando tutto troppo bene, mannaia la miseria. Fatemi sapere le vostre comunque. Iscrivetevi, mi raccomando. Ciao, velli.